Vogliamo celebrare la gioia, vogliamo avere un approccio positivo per la vita e questa cosa ce l'hanno insegnata tutte le persone che noi andiamo ad assistere, dove noi andiamo a fare volontariato in ospedale e nei vari ambiti, gli anziani, i centri anziani. Loro ci hanno insegnato che si può vivere la sofferenza, il disagio e momenti di difficoltà con la gioia e la positività. Quindi abbiamo voluto organizzare questo festival in occasione dei nostri dieci anni di attività, qui abbiamo alcuni dei nostri volontari, e abbiamo invitato delle persone che ci potessero trasmettere questo, tra cui Simona Azzori che verrà il 3 dicembre alle 15 al Flaiano e ci parlerà della sua vita, del modo in cui lei con la gioia è riuscita ad affrontare e a rendere la sua vita una meraviglia. E poi ci sono tantissimi altri appuntamenti, il venerdì 2 dicembre alle 18 faremo l'inaugurazione con un pittore presso l'Aurum che ha fatto tutta una serie di opere artistiche sue proprio per la gioia. E poi il sabato sera, oltre a Lazzori, il sabato sera sempre al Flaiano ci sarà una serata meravigliosa di allegria condotta da Federico Perrotta e con tanti artisti che vengono grazie a mente. E la domenica tutto il giorno all'Aurum tra workshop, laboratori, spazio bambini, quindi chi ha i bambini può venire e può portarli e poi tavola rotonda finale e momenti di festeggiamento.